Bentornati, torniamo a parlare di Monza-Inter due giorni dopo e diciamoci la verità, ci aspettavamo una partita più complicata vedendo l'Inter con il Verona, con il Genoa e con il Lecce palesemente sulle gambe e invece non solo la vinciamo con un risultato rotondo e senza nemmeno sforzarci più di tanto, ma si vedeva che stavamo bene fisicamente. Sicuramente vuoi anche perché lavorare una volta a settimana fa tanto e l'Inter lo ha fatto per due settimane, si è visto e lo vedi anche, soprattutto da come difendiamo. A parte che quando vogliamo pressare pressiamo, ma tendenzialmente noi gli avversari li portiamo verso il centro a modo imbuto e lì arriva di solito il quinto a sparigliare un po' per loro e a recuperare palla. Di Marco in questo è fenomenale, se voi ci fate caso quanti palloni recupera Di Marco in quel tipo di situazione dove noi portiamo il portatore di palla al centro e lui arriva dal nulla e gli scippa il pallone. E poi come dico sempre siamo una fisarmonica, ci chiudiamo, facciamo densità e poi quando ripartiamo attacchiamo gli spazi molto bene e logicamente ci apriamo tutti in un certo modo dall'altra parte del campo. E questo secondo me fa tanto perché avremo una Supercoppa dove sarà importante stare bene e anche lì la squadra ha dato delle risposte importanti. Secondo me la Supercoppa italiana va affrontata con le riserve e vi spiego perché. Innanzitutto fai come hai fatto in Champions League, dai agli altri una veterina importante, è comunque un obiettivo perché ti giochi un trofeo e da loro devi avere delle risposte. Perché per vincere questo campionato serviranno tutti e anche lì Inzaghi dovrà capire di chi potrà affidarsi o meno da qui fino alla fine del campionato. E soprattutto è una motivazione importante, ripeto, ti giochi un trofeo per quanto la Supercoppa è quello che è, per me tutti i trofei sono importanti, poi ovvio lo scudetto non puoi paragonarlo alla Coppa Italia e alla Supercoppa. Però è comunque un qualcosa che metti in bacheca e che vinci e che aiuta, per cui io penso che l'Inter debba affrontare la Supercoppa italiana con le riserve non perché la debba snobbare ma per dare un messaggio anche a chi ha giocato meno che in questa stagione sono importanti tutti. Per cui anche lì vediamo perché Arnautovic è stato in panchina 90 minuti, presumo giocherà contro la Lazio ed è giusto così, come giocherà Frattesi secondo me, Carlos Augusto, tutta gente che sulla carta parte dietro rispetto ai titolari. Ed è giusto così perché poi ragazzi, ripeto, chi dice che l'Inter ha due squadre dice un'emerita boiata. Per me avere due squadre vuol dire che se cambi di Marco, Carlos Augusto tiene alto il livello, invece non è così. Lo stesso vale in attacco con Arnautovic, lo stesso vale a centrocampo con i vari Aslani, con i vari Klassen. Per cui bisogna anche lì utilizzare questa Supercoppa come test per le riserve e sarai d'accordo su questo, molto d'accordo con il mister. Tornando al Monza, diciamo che l'Inter anche lì nel primo tempo poteva fare più gol, solita imprecisione che ci contraddistingue da sempre. Poi il 2-1 arriva e grazie a Dio che è stato annullato per i motivi che sappiamo, perché abbiamo dormito per l'ennesima volta su una palla inattiva e su queste cose bisogna ancora lavorare. E poi nel secondo tempo siamo stati tranquilli, abbiamo gestito, poi sì il Monza fa il gol su rigore del 3-1, ma di base l'Inter ha giocato bene, non c'è nessun bocciato per quel che mi riguarda. Ma su un 5-1 chi vuoi bocciare. Perché poi anche Frattesi che all'apparenza sembrava essere entrato male, poi alla fine si procura il rigore del 4-1. E anche lì bellissima l'esultanza di Thuram sul 5-1 che vada di Marco a rompergli le scatole. Sintomo di un gruppo molto unito, sintomo di una squadra che è tutta unita verso l'obiettivo. Chiaramente bisogna rivedere un po' di cose perché nessuno si aspettava questa Juventus qua. Io per primo, per me la Juventus è una squadra inferiore rispetto all'Inter, ma è una squadra che gioca una volta a settimana, ha un allenatore bravissimo, che secondo me è il migliore in Italia. Potete dire quello che volete, ma i risultati parlano per lui. Se poi guardiamo, a livello di 11 la Juventus non è così tanto inferiore, perché poi io guardo la formazione. Cesni, portiere comunque di affidabilità. Daniele è un giocatore forte, con una certa esperienza. Bremer due anni fa è stato il miglior difensore della Serie A. Rabiot è titolare della nazionale francese e un motivo ci sarà. Locatelli è un giocatore che gioca fuori ruolo da mediano. Per me è più una mezzala, però sta facendo molto bene. Davanti, la crescita di Vlaovic sarà un punto importante della Juventus. Chiesa è un signor giocatore, Kostic è un giocatore anche lì molto bravo. E da quinto, secondo me, fa anche bene. Che se ne dica. Per cui ragazzi, anche lì col Monza abbiamo dato un bel segnale a tutti quanti dopo una settimana difficile, con tutte le polemiche post-Inter Verona. Inzaghi ha risposto molto bene in conferenza stampa. Pensiamo a lavorare, il resto delle chiacchiere non ci interessa nulla. E devo dire la verità, ho trovato una squadra e uno staff isolato e concentrato sulla partita. E vorrei che fosse così per i prossimi sei mesi. Noi ce ne dobbiamo sbattere di tutta questa cosa mediatica contro di noi per quanto riguarda squadra e mister. Si è attuata questa politica, Marotta ha fatto bene a rispondere in quel modo in Lega Calcio l'altro giorno, assolutamente sì. Poi da tifosi noi ci auguriamo sempre che i nostri dirigenti rispondano a tono. Però Marotta in quel momento doveva difendere la squadra, doveva fare una cupola di vetro per proteggere quest'ultima. Noi tifosi cosa dobbiamo fare? Stare uniti e cercare di sostenere i ragazzi fino alla fine. Perché questa Inter sta viaggiando molto bene. È una squadra che quando sta bene è ingiocabile. E se un attimino cala la tensione può rischiare di ricevere brutte sorprese. Però mi sento di dire che questa squadra è talmente affidabile che puoi anche non guardare la Juventus. Nel senso che devi concentrarti a fare il tuo campionato. E l'Inter lo sta facendo. A dispetto di quello che dicono in tanti e a dispetto di tutto quello che ci è stato tirato fino ad oggi. Perché ripeto, Inter Verona è stato il culmine di un processo che è iniziato dalla prima giornata, anzi nemmeno, cioè da proprio neanche iniziato il campionato e già si facevano polemiche. Per cui ragazzi sarà difficile, saranno sei mesi complicati anche perché perderemo una giornata di campionato e giocheremo la Champions League e avremo un calendario durissimo. Juventus, Fiorentina, Roma, Atletico. Se superiamo indenni quel percorso, secondo me ci sono buone possibilità di fare qualcosa di veramente bello. Detto questo ragazzi, sempre Forza Inter e seguite la pagina per altri contenuti.